Buonasera ad Alessandra Bucci e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura il Consiglio Comunale che si è riunito questo pomeriggio. Primo question time per l'amministrazione De Caro. Vediamo come è andata con Serena Russo. Buonasera Alessandra, prima giornata di question time per l'amministrazione De Caro. Pochi consiglieri in aula, circa 24, ma davvero tante le istanze presentate agli assessori. In molti hanno premuto sulla questione trasporto scolastico con l'assicurazione di Paolo Romano circa la partenza del servizio lo stesso giorno d'inizio delle scuole, ossia il 17 settembre. Gettonatissimo anche l'assessore lavori pubblici Galazzo, diverse le questioni a lui sottoposte, dai grandi problemi come lo stato dei lavori sul nodo ferroviario alla Caserna Rossani a quelli più piccolini, come ad esempio l'interruzione del cantiere in piazza Massari. Partiamo però da Brexit centrale. Nei giorni scorsi pare sia stato consegnato il primo studio di fattibilità sulla Rossani, invece già negli uffici comunali, il primo stralcio del progetto sul verde pubblico. Causa dei tempi allungati di esecuzione dei lavori su piazza Massari, invece, è l'attesa di alcuni pareri della sovrintendenza, ma anche il raddoppio dell'area interessata, fino alla statua di Piccini. Primo intervento in assoluto poi per il Presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Dirella, che con un nastro giallo al braccio ha chiesto un maggior impegno della politica per la risoluzione della questione dei Marò. Dirella ha chiesto poi anche maggiore sicurezza davanti agli istituti scolastici, con più strisce pedonali, ma anche più sicurezza in genere per la città. Desire di Geronimo ha poi chiesto l'UMI sulla ricapitalizzazione dell'Antab e Pasquale Finocchio, insieme ad altri, sui lavori del Waterfront di San Girolamo. Di cultura della legalità, infine, è parlato Isma Merini, di Forza Italia, che già il prossimo giovedì in aula proporrà un ordine del giorno, incentrato sulla sicurezza di Piazza Umberto, Piazza Moro e Piazza Cesare Battisti. Ed è tutto, linea lo studio. E parliamo sempre di sicurezza. Si svolgerà domani il presso eviminale l'incontro tra il Sindaco di Bari Antonio De Caro e il Ministro dell'Interno Angelino Alfano, la presenza del Senatore Barese e nonché coordinatore regionale del nuovo centrodestra Massimo Cassano. Si tratta di stabilire e rendere operativa nel più breve tempo possibile una profonda e diretta interlocuzione tra l'amministrazione del capologo pugliese e il governo in tema di sicurezza per la nostra città, spiega il Senatore Massimo Cassano tra i promotori dell'iniziativa. Al Ministro Alfano rappresenterò anche le problematiche di una regione, la Puglia, in prima linea nell'operazione Mare Nostrum, che vede sempre più forte la necessità di coniugare la tradizionale vocazione all'accoglienza e all'integrazione con le esigenze di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stessi profughi. E passiamo alla pagina politica, è ormai scontro aperto sulle primarie tra Emiliano e Minervini. Tutt'altro che scontato, l'esito della corsa verso le primarie di novembre per il centro-sinistra, partito democratico spaccato, ieri l'Assemblea regionale, che avrebbe dovuto chiudere il cerchio sulle candidature, ha invece registrato l'ennesimo scontro sulle regole. Guglielmo Minervini ha chiesto una deroga allo statuto e si è rifiutato di raccogliere le firme per partecipare alle primarie. Il messaggio dell'assessore regionale che oggi pomeriggio ha incontrato in fiera i giovani simpatizzanti è allo sfidante Michele Emiliano. Non sono stato messo nelle condizioni di raccogliere le adesioni, racconta Minervini. Non farò accordi con i capi bastone, mancano due mesi alle primarie e i giochi sono ancora aperti. Parliamo di Amgas, che chiude i conti con 4 milioni di utili, metà dei quali serviranno alla ricapitalizzazione dell'Antab e altri due nel bilancio del Comune. Sentiamo. 4 milioni e mezzo di utili, due dei quali saranno utilizzati per ricapitalizzare l'Antab e altri due finiranno nel bilancio del Comune. I conti del 2013 dell'Amgas S.p.A. sono col segno più. Siamo alla dimostrazione, ha commentato il presidente Ugo Patroni Griffi, che anche un'azienda partecipata da un ente pubblico, se ben gestita, può produrre utili al pari dei privati. Ma questo non è l'unico risultato positivo per l'azienda di distribuzione del gas barese. L'Amgas, infatti, si è giudicata a un importante finanziamento del Ministero per lo Sviluppo Economico per rendere la propria sede a impatto zero grazie all'installazione di due paleoliche da 3 kilowatt per autoprodurre l'energia elettrica, a lavori di coibentazione dell'astico solare per ridurre al massimo le emissioni. Amgas poi, insieme ad ACUPI e AINEL, lavoreranno per fare di Bari una città smart con l'installazione di un contatore multifunzione unico per le tre utilities. Una società che anche quest'anno fa degli utili, sono 4 milioni e mezzo, 3 milioni vengono dati al Comune, 2 per finanziare attività di bilancio. Si dimostra che un'azienda pubblica, se ben gestita, può produrre utili al pari dei privati. E poi questa ricchezza è a vantaggio dell'amministrazione e del gruppo di imprese che fanno capo all'amministrazione, permettendo di recuperare in efficienza anche in altre aziende comunali. E torniamo a parlare di sanità. Un mese fa c'eravamo occupati della situazione del Policlinico di Bari. Tanti cantieri, ma grande caos, avevano denunciato ai nostri microfoni i sindacati. Oggi si via dipinto e è andata per noi a vedere se la situazione è migliorata. Il servizio. Tanti cantieri, pochi cartelli, lavori a singhiozzo. Terminate le ferie estive, riprende l'attività nel Policlinico di Bari e tornano le emergenze di sempre. Prima di ferragosto avevamo raccolto le denunce dei sindacati. Il Policlinico è tutto lavoro in corso. Peccato che, come aveva scritto la CGL Medici di Bari, e come testimoniano le immagini girate. Questa mattina la trasparenza è un optional. Costi dei lavori, tempi di realizzazione, scadenze, futuro dei cantieri. Impossibile capirlo passeggiando nei viali dell'ospedale. Tante le aree transennate, senza operai in attività. E tutto intorno il degrado, aggravato dalla sensazione di grande disordine. La domanda però che tornano a porre i sindacati è sempre la stessa. Chiarezza, trasparenza, bene l'investimento pubblico sulle infrastrutture, ma chi controlla quali sono le effettive ricadute sui servizi ai cittadini? Restiamo ancora al Policlinico. I collaboratori riuniti in assemblea sindacale questa mattina per chiedere all'azienda il riconoscimento dei buoni pasto e dei rimborsi arretrati sul servizio mensa. A guidare l'avvertenza, il gruppo indipendente Libertà. Dal 1996 al 2001, spiegano gli avvocati del sindacato, il Policlinico avrebbe dovuto riconoscere ai lavoratori 2,80 euro per ogni giornata di servizio per la mancata fruizione della mensa. Invece sono stati fatti solo accordi personali e dispendiosi. Ad oggi i dipendenti, continua il sindacato, non possono affluire di passi e strutture adeguate e continuano a non ricevere le somme dovute. Passiamo alla cronaca. Attimi di terrore. Ieri sera in una pizzeria d'asporto di Ruvo di Puglia. Due rapinatori hanno fatto eruzione nel locale. Uno di loro ha puntato la pistola al volto di un dipendente tentando più volte di fare fuoco, ma l'arma si è inceppata. Le immagini che vi mostriamo sono state riprese dal circuito di videosorveglianza della pizzeria. I due malfattori sono stati arrestati. Si tratta di Francesco Cipriani, di 36 anni, che era già sottoposto agli arresti domiciliari, e Vittorio Delia, di 37 anni, entrambi di Terlizzi. Secondo l'accusa, è Cipriani ad impugnare una pistola semiautomatica calibro 6,35. Nel frattempo, il complice tenta di svuotare la cassa. A questo punto scatta la reazione del pizzaiolo e di un'altra dipendente, che ingaggiano una violenta colluttazione con i malviventi, che alla fine fuggono con soli 50 euro. I due sono stati identificati e arrestati nel giro di poche ore dai carabinieri, che hanno anche sequestrato l'arma. 9 settembre 1943, Bari celebra il 71esimo anniversario della difesa del porto dall'attacco nazista. La cronaca della mattinata nel servizio di Barbara Cirillo. Una corona dall'oro davanti al palazzo della Dogana, una in via Venezia, nei pressi della pietra di Inciampo, che ricorda il contributo offerto dal giovane Michele Romito, dai cittadini e dai militari in difesa della città vecchia. Poi il ricordo dei caduti, con la cerimonia di commemorazione davanti al monumento dedicato al 51esimo battaglione Bersaglieri di Bari. Bari celebra così il 71esimo anniversario della difesa del porto dall'attacco dell'esercito nazista. Era il 9 settembre del 1943. La città fu difesa non solo dai militari cappeggiati dal generale Bellomo, ma dall'intera cittadinanza, da uomini, donne e bambini. Ed è proprio alle donne che è stata dedicata dall'Arci un'opera d'arte installata sulla muraglia e realizzata con antiche lenzuola, candele, terricce e una sedia azzurra. Oggi Bari ricorda i suoi eroi, anche grazie alle testimonianze dei figli dei caduti di guerra. È stato il primo contatto a fuoco, reale per loro, per cui c'è stato un attimo di paura e nello stesso tempo poi, con delle cose andare in una certa maniera, di orgoglio e di determinazione. Determinazione, determinazione che poi è esplosa in pieno da parte di tutto il riparto l'8 dicembre del 1943 nella battaglia di Montelungo, perché con Montelungo è rinato l'esercito italiano.